E salve salve a tutti ragazzi mi chiamo Luigi e bentornati in questo nuovissimo video Allora come state? Spero bene Oggi come lo avete detto dal titolo reagiremo al penultimo fumetto di Fortnite Cioè di Fortnite con la collaborazione di Batman.0 Eccolo qua il nostro bellissimo e amatissimo quinto fumetto che adesso costa 3 euro Per fortuna e speriamo che l'ultimo non vada a ruba come il primo fumetto di questa piccola saga Prima di iniziare come sempre io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare il campanellino dei notifichi E lasciare un bel commento caldo con l'hashtag del giorno che verrà sempre detto a fine video E mi raccomando non dimenticate di iscrivervi e di condividere il video con i vostri amici Ma intanto com'è possibile che io mi dimentichi alcune volte la mia intro? Cioè adesso devo rubare la intro di qualche youtuber Boh vabbè Sigla! Ok ragazzi eccoci qua Partiamo subito con la prima pagina del fumetto Dove vengono mostrati i nostri looper Che sono sotto l'isola di Fortnite Infatti lo dice anche qua E che stanno combattendo finalmente Per la prima volta che vediamo anche queste guardie Ovvero che stanno combattendo contro gli O.I E adesso vediamo cosa succederà Ok raga fin qua viene rappresentato solo il combattimento appunto tra i looper e gli O.I Fino a quando un certo punto Tanto una cosa molto carina Per me Che abbiano fatto questa cosa Ovvero che Batman Stacca la maschera a un O.I E viene mostrato Ok questo è un O.I che viene ucciso Ok qua viene mostrato Che C'è la faccia di Jonesy D'altronde si riconosce anche Un pochino dalle caratteristiche del viso E dai capelli biondi Mi sembra una cosa molto carina E E credo che queste guardie Dato che Sono tutti maschi E che Hanno la stessa voce Io presuppongo Non so se non mi ricordo se si dice così Che Tutti gli O.I sono copie di Jonesy Non so di Jonesy agente O di qualche altra copia E niente io Io ipotizzo questa Questa cosa qui Intanto qui Batman ci dice anche che Forse Questi qua appunto Che controllano Che controllano Che controllano Il loop Appunto dice che Secondo lui Queste copie O i combattenti Più Qui dice I combattenti Più abili Del loop Vengono Scelti per essere Dei guardie Anche questa sarebbe Una cosa molto carina Forse anche Più sensata Però Dobbiamo ancora Vedere Come si sborgerà La storia Con gli O.I Per adesso Dato che Ve ho sentito Parlare un pochino Di quel Del contenuto Di questo fumetto Per ora Non c'è Nessun'altra Informazione Per le guardie O.I Ma forse Nell'ultimo fumetto Ci saranno Ok ragazzi Dopo Alcune altre scene O pagine Di combattimento Fra il loop E gli O.I Vediamo Finalmente I nostri eroi Dirigersi Dal punto zero Infatti Ecco qua Eccolo qua Il punto Vabbè Più che il punto zero Vi ricordate Il trailer Della stagione cinque Dove c'è ragione Si che in questa stanza Ha reclutato I cacciatori Di taglie Ecco Praticamente È la stessa E appunto I nostri eroi Sono arrivati qui Per Per Ok Per farli Ritornare a casa Intanto qua Ci viene anche Mostrato Che Il viaggiatore eterno Quello lì Della stagione dieci Vuole viaggiare Per tutta Per tutte le realtà E per tutta L'eternità Dato che poi Il suo nome è questo Però Viene Cioè va nel punto zero E però Viene Diciamo Scomposto Cioè insomma Si aprono Vari portali Vari realtà Con i nuovi portali E praticamente Lui viene scomposto In decine di parte In decine di parti Del suo corpo E muore E quindi Questo ci fa significare Che per ora Gli altri Batman E gli altri Looper Non potranno Per ora Ritornare a casa E che dovranno Farlo E che dovranno Escogitare Un altro modo Per Per ritornare a casa E intanto Il viaggiatore eterno È morto Vai Vai Ok ragazzi Qua ci viene Mostrato Che I nostri Vabbè Basta Dire i nostri eroi Allora I protagonisti Vabbè Batman Ecco Che è il personaggio Principale Ci viene mostrato Appunto Che Batman Vuole Aggiustare Il pannello Rotto Dal viaggiatore E Come posso dire Scansionare I corpi Di Ognuno Di questi Dei personaggi Per poi Aprire La loro Realtà E ritornare A casa Ma non Prima Di aver Rotto La crosta Del punto zero Che Gidiamo pagina Ecco Appunto Con uno Con uno Di questi Pannelli Rompono La crosta Del punto zero E tra l'altro Io non capisco Perché sia In superficie Dato che Siamo Nella Season Ancora Nella season 6 E in teoria Il punto zero Doveva essere In cima L'aguglia Però E non Sotto Dato che Si vedevano Anche i fasci Di luce Del punto zero Boh vabbè E E Adesso Ognuno Praticamente Va Nella propria Casa Prima La renegade Che In questo fumetto Si chiama In un altro modo Non mi ricordo Chi Poi E per ora Solo lei Però Vediamo Che Deadstroke E attenzione Non se ne aspettava Nessuno Fossi traditore Che aveva Ucciso Pesce secco E che aveva Tradito appunto Gli altri E abbiamo scoperto Anche che forse Lavora Per quelli Che hanno Creato Per quelli Che hanno Creato Il punto zero Per quelli Che hanno Portato Sull'isola Tutti i looper Ok Dopo che Deadstroke Si è arreso Scusate Batman E gli altri Trovano Il modo Per Riportare Nelle realtà Dei compagni Delle skin Vabbè Delle skin Di Fortnite Mentre Come posso Spiegare Perché è Abbastanza Difficile Ok Batman Batman Con gli altri Suoi alleati Cerca In un altro No Sempre nello stesso Modo Di Portare I suoi Alleati Nelle loro Realtà E così ci riesce Prima Testa Adosso Poi Il Barbaro Non so come Si chiama E E poi Lui Dice a Catwoman Che vuole Come ho detto prima Tipo Scannerizzare Il corpo Il corpo di Deathstroke Per poi Tracciare La La loro realtà E ritornare A Gotham City Però Deathstroke E prima Deathstroke L'avevano legato Appunto Perché era un Traditore Così Deathstroke Si libera E E qua Trova Oppure Viene Raffigurata La pistola Rift Che aveva usato Jonesy Per 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 Reclutare I cacciatori Di taglie Quindi E poi Salta Nel punto Zero Ritorna A Gotham City E Catwoman Per un Per Quasi un Soffio Vabbè Riesce Appunto A recuperare La pistola Rift Però Scarica E Quindi Il fumetto È finito Qua E Nel prossimo Mi pare Che ci sia La storia Su come Ritorneranno A casa Loro Due Quindi Una storia Su loro Due Forse anche Con il loro Rapporto E Chissà come Andrà a finire E Nel prossimo Numero La conclusione Bene Ragazzi Abbiamo finito Qui Con leggere Il fumetto È stato Molto Complicato Perché Io di solito Non riesco a fare I rassunti In modo Dettagliato Soprattutto In questo Non è molto Facile Se volete Comunque Ci so Per Capire meglio La storia Ci sono Dei video Di altri Youtuber Che spiegano Appunto La storia Di questo Fumetto Niente Adesso Giriamo Le altre Pagine Ah questa volta Poi non c'era La La varia La copia E La copertina Variante Perché Qua non la fa vedere Oppure c'è ma non la fa vedere Ok Giriamo Le pagine Qui ci sono anche Le note Dell'isola Eccoci qua Qui che c'è anche Il nostro amato codice Che io adesso L'ho censurato Come ho già detto La lettura Del quinto fumetto E' finita Adesso andiamo A riscattare Il codice E niente Ci vediamo dopo E mi scuso Un pochino E mi scuso Per non aver Riassunto bene Il penultimo fumetto Perché come ho già detto E' abbastanza difficile Però comunque Perdonatemi E niente Ci vediamo Sul sito di fortnite Per riscattare il codice A dopo Ok ragazzi Eccoci qua Sul sito Ufficiale di fortnite Per riscattare La ricompensa Ho già inserito Il codice Che questa volta Lo censurerò Il mio dio Si sta per spendere Il telefonino Ok Riscatta il codice Ok Harley Quinn Revenger Backblings Vabbè Il suo Già Lo zennetto Di Harley Quinn Ecco Ok Confermi di Voler attivare Questo codice Sul tocco Quanto E certo che si Attiva Ok Torno alla home E ci vediamo In game Intanto Bellissima Stagione 7 E niente E niente A dopo Ok ragazzi Eccoci qua Su fortnite Non ci interessano I notizie Ok Eccoci qua Ok Rispettiamo No Assolutamente no Anzi Carica Ok Carichiamo Harley Quinn E mettiamo E mettiamo Ecco Adesso devo anche censurare Il numero di questo qua Uh che bello Ok Vediamo anche la sua reazione Lo mettiamo anche tra i preferiti Molto bello A me piace Anche perchè c'è il timer Ehm Non so Se reagisce Con le eliminazioni Oppure Proprio col timer Boom Ecco E' spuntata Harley Quinn No E' carinissimo Ok Adesso andiamo In laboratorio Per Della battaglia Per vedere Appunto Se reagisce Con O con le eliminazioni O con Non so cosa Ok ragazzi Eccoci qua Allora Mi piace Ci sta I backpack Ci sta Anche con i colori Della skin Di Harley Quinn Devo soltanto Tro Aspetta Mi dice tambero O meglio Non so se Non mi Aiuto Devo cercare Dei personaggi Attaccanti Dov'è che si trovano Ehm Dov'è che si trovano Ah mannaggia Ok ragazzi Eccoci qua In partita Ho fatto Ho fatto prima Andando da qua Che Che nella Modalità Che Nell'altro Ok vediamo Ma noi Ma No Non lo gi- Oh ok ok Si Reagisce Reagisce All'eliminazione Voglio Voglio vedere Anche se reagisce Uccidendo gli OI Che urloca Ho fatto Aspettate Aspettate Boom Ok reagisce anche Uccidendo Le guardie Va bene Un bel Backpack Mi piace Fatemi sapere Nei commenti Se a voi piace Per me È molto bello L'unica cosa Che lo rovina È qui sotto Perché Non è Non è colorato Però A parte questo È bello Bene ragazzi Il video è finito qui Come sapete Iscrivetevi Commentate Se non siete ancora iscritti Al canale Vi consiglio Vi fallo subito Noi ci vediamo Con un nuovissimo Video La domenica E una nuovissima Live Gli ultimi Cinque giorni Di giugno Negli ultimi Cinque giorni Di giugno E Niente Ci vediamo al prossimo Video Ciao ragazzi Il last Del giorno È Che me lo stavo Per dimenticare È Hashtag Zaino Di Harley Quinn Ciao Ah e se commentate Questo hashtag Mi mette cuoricino Carinuccio Ciao Ciao Anzi solo ciao normale Ciao